Si è concluso poco prima della mezzanotte il lungo confronto tra i vertici del Partito Democratico di Gela dopo le fibrillazioni degli ultimi tempi, soprattutto in merito alle bacchettate della Corte dei Conti sui debiti fuori bilancio. La riunione è stata indetta dal Vice-Segretario Provinciale del PD Giampaolo Alario. Al vertice non hanno presenziato, per altri impegni già presi in precedenza, alcuni consiglieri comunali. Il Partito Democratico vuole chiarezza, vuole soprattutto che ci sia una certa trasparenza e che su questi fatti, che sono certamente dei fatti importanti, vadano assolutamente ricercate le responsabilità ed eventualmente anche presi dei provvedimenti sia il caso di prenderli. Ma stiamo parlando però ancora di un dispositivo di sentenza, ancora non c'è una vera e propria sentenza. Dunque fare ergerci a giudici ancora prima di aver emesso sentenze, io credo che sia una cosa ancora prematura. Dunque chiarezza assoluta. Noi non vogliamo assolutamente coprire nessuno, questo che sia chiaro, noi vogliamo che emerga la verità. Ma chi ha contratto materialmente questi debiti fuori bilancio? Guardi, dal dispositivo che abbiamo letto ieri, perché ieri abbiamo letto il dispositivo in modo abbastanza approfondito, i debiti non sono riguardanti questi ultimi anni, quest'ultima amministrazione, sono debiti che si sono contratti nei decenni precedenti. Ma le amministrazioni sono state sempre di sinistra? Ma guardi, il problema io non credo che sia un problema di destra o di sinistra, perché quando si fa un debito fuori bilancio, lo si fa anche per cercare di evitare, questo hanno fatto i consiglieri comunali, per evitare che pagasse la città. E allora se questi debiti effettivamente servono ad evitare che la città paghi un prezzo ancora più alto di quello che deve pagare, io lo farei cento volte, però è chiaro perché alla fine quelli che pagheranno sono solamente le multe che sono arrivate ai consiglieri comunali. In un'estate rovente, che sta per lasciarci, è stato chiesto anche da alcuni rappresentanti propri del PD l'azzeramento della Giunta. C'è pure chi ha chiesto le dimissioni del Presidente del Consiglio, Giuseppe Fava. Le richieste devono essere motivate, devono essere anche ben delineate e soprattutto devono uscire da sendenze, perché se parliamo solo di aria fritta, io volevo invece dire che siano tranquille le opposizioni perché il Partito Democratico oggi la c'è, è presente ed è un partito di sinistra e che soprattutto va a guardare gli interessi dei cittadini, gli interessi della gente. Su questo non ci sono dubbi. E merito invece alla richiesta dell'azzeramento della Giunta? Ma l'azzeramento della Giunta fatto otto mesi prima dalle elezioni non credo che sia un vatto strategico politico che ci possa riguardare. Poi questo è un problema del Sindaco. Il Sindaco si è scelto, si può scegliere il suo assessore, chiaramente su indicazioni politiche, ma è chiaro che chiedere delle dimissioni in questa fase, io onestamente, non credo che sia opportuno.